Su raga, sono Valentina Lattanzio e oggi ho deciso che farò shopping con voi ma non sarà il solito shopping perché ho intenzione di comprare i vestiti allo stop del mio amico Franci del mio coricino Franci, ecco, che è qui con me e quindi quando lui mi dirà stop io dovrò fermarmi perché io attraverso i corridoi di vestiti con gli occhi chiusi e mentre passo Franci mi dirà stop, quindi io passando così quello lì che tocco lo devo prendere e provare, quindi lui dovrà creare in totale tre outfit, immagino soltanto che cosa sceglierai però non scegliere cose brutte, ti prego, scegliere cose brutte, perché ridi? Dai, ti prego, no, non ridere, già oggi è una brutta giornata, non potete capire questo weekend sono andata alle terme con lui e tutto, abbiamo fatto un giro pazzesco, siamo andati in montagna ho deciso di immergere il mio iPhone dentro l'acqua e adesso non va più ho perso tutte le cose che ci sono dentro e anche il video che avevo registrato è andato perso anche le foto delle maldive, ok vabbè basta, iniziamo a fare questo video mi raccomando Franci scegli delle cose decenti, guarda quante cose carine non fare abbinamenti brutti vada vada, andiamo per reparti, vediamo un po' allora, il reparto scarpe ha deciso di scegliere le scarpe, io non ho visto ancora che scarpe ci sono allora, io direi di partire dall'inizio da qua? esatto vedi, vedi via vada stop ti odio ma mi dici dove c'è questa roba? prendi, prendi dai non c'è nemmeno il mio numero, 38 38 38 38 ma il colore è più brutto? no, però non si creda dopo queste scarpe è arrivato il momento dei pantaloni ok andiamo a vedere cosa troviamo in tutto ciò raga io mi vergogno tantissimo guarda ad andare in giro con queste infatti le nascondono tipo così ma io direi che un bel vestitino non farebbe male ma sono bruttissimi fra no ti prego no, ma ce ne sono quelli carini guarda io direi di partire da qua chiudo, vada stop stop no, sei andato troppo avanti sei andato troppo avanti facciamo un rewind vai tipo indietro stop cosa sta... no, dai, prego questa è la... 36 questo mi odio, dai, dove mi fai entrare così? un'incastrata ok ok quella la saltiamo visto che ti piace e non la prendiamo no, è bellissima vado vado ok stop perché vabbè vabbè dopo la scarpa e il vestitino ci mancava il cappellino sì, ti voglio vedere con tutte e tre tutto sommato non è male secondo me, sai? e ancora ti stia salvando a parte le ballerine perché che ancora ti stia salvando? vuol dire che poi... vabbè, ancora sei presentabile con queste cose ah, ok allora adesso andiamo a provarli vabbè sono pronta dai uè, campagnò non ti rendi conto? ma guarda le bocci non ti faccio schifo da qua a qua sono bella no, no, no ha tutto fa schifo sì devi mettersi così dai franci belle dai bra pavolose queste scarpe gialle ti odio, basta che brutta ciao fammi scegliere delle robe belle ti prego ma sei in serio? certo dimmi almeno che c'è la mia taglia è la 38 che è lo stesso grande oh, mi ha pescato due proseguo? proseguo stop guarda senti, sono arrabbiatissima, lo sai? proseguo stop fra vabbè vabbè sono abbinati con i pantaloni mai nemmeno no no, non è possibile cimmi nascondi spero solo che non ci sia gente in camerino allora mi ho fatto prendere questo marrone rosa e beige piano eh non altre ballerine almeno un altro modello ti prego non avere freddo faccio gente? cosa scegli? venga, venga gira a parte lontana giri alla sua sinistra qui? non frontale vieni qui qua gira brava tocca stop proprio quelle dai proprio quelle non mi rifiuto sono proprio per te queste vai che c'è adesso pure il pubblico come il pubblico? si stanno spiattando tutti quanti a te amore vado vado io non ti conosco io non ti conosco ma fammi ancora ancora se questo fosse stato così vado a cambiarmi vieni verso di me vieni 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 di partire dalla ciabatta vieni 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 sempre qua? gira alla tua sinistra vieni dritto no destra dritto vai vai vieni 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 ma è stretto gira a destra destra no sinistra eh sinistra scusa va così vieni dritto vieni dritto mi sento cosa fa? stop questo? si dai il 38 c'è guarda è proprio lì sotto prendilo quale? non è vero? il 38 guarda l'ultima fila ma vuoi che hai sbagliato il cartellino? no 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 è giusto giusto stia ferma stia ferma perché si avvicina ancora non è finito lo shopping sto mostrando quello che mi stai facendo scegliere vada vada chiuda gli occhi vieni sopra questo? si cos'è sta roba? beh quando piove chi vuoi non lo usi guarda c'è perchè? perchè? come c'è? 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 non ti preoccupare sono da bambina dove vado? dritto a te cammina 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 tu cammina stai andando troppo piano ok tendi la mano verso sinistra prego prego venghi venghi gira dritto però non ti portare dietro i vestiti non ho scelto quelli vieni tieni la mano sinistra destra vieni ma mi stai facendo fare il girotondo? vieni 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 stop questo? questo? si ma sei serio? dai non ci credo però questo è che carino wow wow belle gira gira fai un po' lo spogliarello tira via il giubbottino cioè fai vedere dai ho dovuto fare un primo piano ai piedi perché dai a me i piedi non piacciono guarda poi con queste tappine qua ma non sono un po' sezzi apriamo? questo qui è morbidissimo però io mi chiedo ma ti rendi il mio computer vero? perché io adesso devo andare a comprare cielo e tornare con queste robe le da un casino ti farei tornare a casa con queste ciabatte a piedi poi piove anche beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vado subito a cambiarmi chissà in casa che cosa mi diranno a pare che adesso abbiamo anche tipo il 2% si sta spegnendo il telefono quindi è veramente un casino spero che questo video vi sia piaciuto cliccate like se così fosse seguitemi su tutti i social e prossima volta guarda che anche tu dovrai farlo io te lo dico no 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 ciao 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 Grazie a tutti.